salve ragazzi sono sempre menzo benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo tornati qui con la rebuilding con il nostro napoli una carriera allenatore con il napoli che si conclude entro 10 episodi in questi 10 episodi dobbiamo cercare di vincere il più possibile facendo il calcio a mercato che più o meno i titoli di giornale i telegiornali ci vanno a indicare infatti nei primi episodi quelli che vi lascerò chiaramente in descrizione abbiamo fatto un calcio a mercato con molti nomi che sono sempre stati accostati al napoli credo tutti i giocatori che abbiamo preso effettivamente sono stati accostati al napoli poi è ovvio non si sa se andranno veramente ma la serie si basa su questo ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio qui verso la fine del calcio a mercato di gennaio nel quale non andremo ad acquistare più nessuno perché abbiamo già preso James Rodriguez a 0 con la sfida di ritorno contro la Juventus che ci andiamo ovviamente a giocare per poi per poi capire un attimo se andare a giocare e simulare questa partita di Coppa Italia sono i quarti di finale io andrei quasi quasi a giocare per poi simulare tutto questo e giocarci gli ottavi di finale contro il Valencia vediamo un attimo cerchiamo di capire come fare nel frattempo questa partita contro la Juventus se la giochiamo ragazzi perché guardate la classifica siamo lì con Lazio e Inter a inseguire ovviamente come al solito la Juventus quindi vincendo questa partita avremmo possibilità comunque di lottare con la Juventus per il campionato questa è una formazione assolutamente titolare andiamo in campo con questo 11 sempre sul pezzo e forza Napoli attenzione a questa occasione per la Juventus c'è Ilicic in verticale per Dybala che dopo 7 minuti porta la Juventus in vantaggio Ilicic pazzesco Ilicic alla Juventus ragazzi qui trova un ottimo filtrante Dybala poi col destro batte Meret sul primo palo si poteva fare di certo meglio soprattutto con la linea di effettiva anche il centrocampo non è stato molto molto compatto anche Meret poteva... potevano far tutti meglio ragazzi potevano far tutti meglio lei che è appena cominciata Manolas per rush attenzione al movimento di Jovic porca miseria raga palla troppo lunga per poco non ci arriviamo Jovic il lancio per Insigne è notevole palla forse un po' lunga ma Lorenzo Insigne riesce a tenerla in campo con il tacco se la porta verso il centro bella la palla per Jovic Chiellini ma 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 ragazzi ma scusatemi scusatemi voglio capire una cosa ok 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 cioè dopo la stecca c'è però effettivamente qui Chiellini piglia il pallone lo tira addosso a rush e però dopo rascizza ragazzi però dopo rascizza è assolutamente in grado di recuperare il pallone no scusate Jovic cioè qui è vero che Chiellini interviene però poi Jovic porta avanti il pallone guardate se lo porta avanti e qui dopo c'è la stecca di Chiellini ragazzi per me questo è rigore perché nel momento in cui Chiellini prende la palla e Jovic poi se la porta in avanti lì il primo contatto è andato c'è il secondo eh non lo so non lo so fatemelo sapere sotto nei commenti per me ci poteva stare il calcio di rigore non era scandaloso voglia il Zabal Jovic la palla per Fabian che col mancino la piazza e qui da lì bisogna farlo Fabian io più di così onestamente non credevo di dover fare ormai il mio l'avevo fatto bisogna solo buttare nella porta Fabian eh raga purtroppo qui c'è fallo di Coulibaly non so se Cristiano Ronaldo può sbagliare da quella posizione va a CR7 Meret Meret ragazzi pallone potentissimo io non l'ho neanche visto partire finisce qui il primo tempo signori un buon Napoli che però per il momento non è assolutamente all'altezza della Juventus o facciamo un miracolo nel secondo tempo o la vedo durissima insigne Jovic si fa vedere anche Rashi attenzione perché c'è spazio per Jovic servito incrociala bene Luka Jovic Luka Jovic signori si apre così il secondo tempo con il pareggio immediato del Napoli sfruttiamo bene i nostri inserimenti la Juventus non ci capisce nulla esce probabilmente ma esce malissimo del Higte più o meno come esco io ogni tanto e Jovic con l'incrociato questa volta non sbaglia non me l'aspettavo raga forza allora così si può fare bravo culi gran pala recuperata attenzione Rush ce la deve vedere con Chiellini doppio passo eh ma Chiellini ragazzi non si passa mica su sto gioco porca miseriazza occhio a questo inserimento Cristiano Ronaldo attenzione perché la Juventus è calata eh non potevo fare altro ce l'avevo sul mancino faccio dei cambi ragazzi faccio dei cambi oggi voglio il Zabal molto male facciamo entrare Luzano c'è Fabian anche molto stanco mettiamo il buon Zelinski siamo davanti a quella che potrebbe essere l'ultima occasione di questo match Rush lancia Luzano occhio a Irving Luzano tocca praticamente uno dei suoi primi palloni al centro arriva forte insigne sta arrivando anche Zelinski ma Chiellini l'ha messa fuori è fortissima questa Juve Alan mantiene viva l'azione d'attacco del Napoli bella questa palla per Rush che la colpisce male e poi ancora Chiellini dopo la respinta corta di Szczesny io non posso crederci ragazzi di certo il pareggio è meglio della sconfitta però non posso veramente crederci è stata una pareta molto divertente nel frattempo qua ci arrivano delle belle offerte per Alan e Meret tecnicamente Alan potremmo anche venderlo il problema è che non lo voglio vendere alla Juventus ragazzi perché anche Alan ha un po' il piede più di là che di qua non lo so credo dalle notizie che si vedono detto questo signori io questa pareta contro il Torino me la andrei a simulare siamo in casa sono i quarti di finale di Coppa Italia e incrociamo le dita insomma punto molto sulla Coppa Italia avvinciamo 2-0 gol di Jovic e Rasci bene 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 così le semifinali ce le possiamo andare a giocare a questo punto mi dispiace molto per la tua delusione però io vado diretto alla partita contro il Valencia ovvero gli ottavi di finale di Champions League porca sozza per fortuna abbiamo vinto 2-1 c'erano le semifinali contro l'Udinese mi apparsa così all'improvviso non ho fatto in tempo a stoppare per il resto in campionato stiamo vincendo molto simuliamo fino qua porca miseria raga abbiamo rischiato parecchio in campionato stiamo andando alla grande ragazzi vediamo un attimo contro il Brescia abbiamo vinto 5-0 buono raga buono ma adesso la situazione in campionato com'è siamo addirittura terzi raga a 62 punti sempre a pari punti con l'Inter a pari punti con la Lazio e a 7 punti dalla Juventus ragazzi comunque non è infattibilissimissima beh ci sono ancora tutte le potenzialità per fare il triplete ragazzi il campionato non è che dici è già finito certo la Juventus dovrebbe perdere magari proprio contro una Lazio contro qualcosa del genere vediamo un po' adesso però ci concentriamo perché abbiamo la partita contro qui abbiamo un po' di offerte che tanto per quest'anno non tratto fatemi vedere un attimo noi dobbiamo sfidare ancora la Lazio mi sa giusto è Inter-Lazio le ultime due mamma mia andiamo in campo per queste ottave di finale di Champions signori togliamo poi Oyarzabal e mettiamo il buon Politano vedo che Atal è cresciuto ottimo per il resto andiamo così sempre sul pezzo e forza Napoli ecco l'undici titolare del Valencia signori comunque il The Champions si fa sentire si fa sentire Silsen Alderweireld Paulista Florenzia Alstenberg Parejo Condorbià Soler Geddes Gomez e Gignac formazione tosta comunque grande tesi di Politano si è inserito molto bene Jovic Politano decide di mettersi in proprio Jovic bello l'inserimento di Fabian Perrasci che la controlla insignia davanti a sé ma porca paletta insignia levati delle balle va là Allan Fabian la controlla provano ad andarsene se lo avete sul manzino poi di nuovo sul destro se ne vanno prova colpisce in pieno chi era? Alstenberg non ho visto ma come Gignac guarda come se ne è andato a Coulibaly anche a Coo e poi mi ha reato sul primo palo che rischio mamma mia Gignac ancora sa dribblare brutta palla persa dalla scizza la riconquista Kondogbia poi con l'aiuto di Coz il Napoli può far partire l'azione d'attacco Fabian in profondità per Rasci sfida paulista se ne va per un attimo se ne mette sul destro Rasci a giro Silesen insegne dopo una finta serve Allan bella poi questa palla per Rasci se la deve vedere con Kondogbia serve dietro i segni paulista ci mette il corpo la palla resta lì e poi Kondogbia rimessa laterale continuiamo ad essere pericolosi insignie Rasci sempre col destro giro ancora Der Weyreld e poi ancora Rasci impreciso però politano Jovic bello 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 allo scadere Rasci 1-0 Napoli era proprio quello che volevo come si è girato un po' troppo spazio lasciato forse da paulista però ottimo gol e il primo tempo si conclude nel migliore dei modi signori con il nostro gollettino con il nostro gollettino c'è insignia però che si sta decedendo io onestamente lo toglierei e metterei il buon Jeremia occhio qui al movimento di Kondogbia che firma il pareggio come è possibile che Alan non sia riuscito a stoppare questo tiro buono lo scambio con Maxi guardate che bella triangolazione poi per quanto per quanto non sono riuscito a stopparla questa palla per un centimetro e niente da fare per Meret pareggio Valencia che rimette le cose a posto anche se il nostro gol fuori casa rimane qualcuno fermi Kondogbia ma qualcuno lo fermi in ogni modo bravo coach Grasci passa dal centro dove c'è Jovic occhio Jovic bella per Poli sul primo la parata Silesen la parata Silesen ho provato a chiuderla ragazzi anche questa ripartenza perché il Napoli ha tutte le carte per fare male Rushy Atal devo cambiare Politano però perché non insegue più Atal passa di nuovo dal centro Jovic bella per Rushy di tacco per Jovic Silesen e poi Boga è in posizione di fuorigioco ma non ci voglio credere ragazzi perché c'era Silesen fuori Rushy di tacco per Jovic S al momento del tiro al momento del tiro Boga in fuorigioco Allan ancora il Napoli che ci crede Jovic palla alta per Boga che affresco Boga Boga palla deviata Silesen con un colpo di Reni riesce a metterla in calcio d'angolo finisce qua finisce qua purtroppo non riusciamo a portarci a casa la vittoria il Valencia è una squadra molto forte ragazzi molto compatta non è facile non è facile però insomma dai un risultato comunque positivo è un risultato comunque positivo meritavamo probabilmente di più però Silesen ha parato con la faccia mannazza lui arriviamo la partita contro l'Udinese la semifinale di ritorno di Coppa Italia passando per il Torino ovviamente l'abbiamo simulata quella col Torino e la vinciamo 2 a 1 ottimo semifinale contro l'Udinese che mi vado assolutamente a giocare anche perché l'andata è finita 2 a 1 e noi in casa abbiamo subito un gol quindi attenzione perché non è un passaggio del turno scontato soprattutto perché siamo molto stanchi oggi Jovic riposa dentro Bogat andiamo in campo così dunque sempre sul pezzo e forza Napoli ma 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 come ma come mi sono parite le cuffiette ma ragazzi Sergi Enric porta in vantaggio l'Udinese bella l'azione qua però in realtà l'aveva presa questa è assolutamente una una cappella ragazzi assolutamente una cappella perché perché l'aveva presa non è riuscito a rispingerla bene il pallone non è neanche angolatissimo eh si ragazzi questa è una bella cappellotta questa è una bella cappellotta che ci costa l'1-0 e così ovviamente veniamo limitati della Coppa Italia Oiar Zabal bello l'inserimento di Bogat che si appoggia di nuovo a Oiar Zabal col destro che tiraccio di Oiar Zabal ragazzi attenzione questa palla recuperata Fabian lancia Bogat il pallone è buono Bogat non è in fuori gioco attenzione all'inserimento di Insigne servito al centro poi Oiar Zabal ancora col destro Oiar Zabal Bogat in profondità per Rasci come pressa la difesa dell'Udinese Insigne ancora per Oiar Zabal il pallonetto e la palla entra e la palla entra Michelo Oiar Zabal rimette le cose a posto allo scadere del primo tempo bellissima azione qua bellissimo movimento anche di Bogat Musso non può nulla il pallonetto è molto ravvicinato abbiamo rischiato tantissimo però di sbagliare anche questa palla mamma mia per fortuna è entrata e come capita spesso in queste carriere si segna al 45esimo ma la qualificazione è ancora in bilico ragazzi anche se questo gol anche se questo gol vuol dire tanto faccio un cambio fuori Rasci dentro Politano bella questa palla di Serge Henrik per Fofana Manolas con una Manolas eh l'ho vista ma il direttore di gara fa finta di nulla Politano bello l'inserimento di Bogat non servito però da insignia adesso Bogat se la deve vedere con Troste Kong una fida di Bogat il Kong lo ferma bene bravo Bogat bravissimo Bogat Ollar Zabal lo serve Bogat davanti a Musso è buono? è buono sì ragazzi sì direi qualificazione messa in cassaforte con questo gol Bogat Bogat gran palla gran palla di Ollar Zabal bravissimo Bogat a battere Musso sul primo palo tanta roba se ne qui a De Paul patience niente ragazzi niente 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 l'udinese la riapre si sono mossi alla grande no vabbè io malissimo io malissimo però di nuovo non riesco a fronteggiarli quando tirano Gonzalo pazienza direttamente dall'Eitre Francoforte se non sbaglio Bogat Pulitano scambiano i due stai perché l'udinese adesso comunque si scopre Matteo Pulitano la mette dentro in buca d'angolo ragazzi che mancino un bel driven shot bella triangolazione con Bogat tanti gol in questa partita molto divertente questo è un gran gol palo gol perfetto bravo Matteo finisce qua signore ci guadagniamo la finale di Coppa Italia bellissima partita contro un udinese davvero in grande forma con ottimi giocatori e davvero ben messa in campo partita molto divertente che però ci portiamo a casa noi contro che siamo in finale raga attenzione perché ancora non si sa in realtà ma c'è l'Inter o la Juventus scopriamolo subito saremo contro la Juventus saremo contro la Juventus quindi l'Inter perde il suo vantaggio la Juventus perde anche qualche punticino in campionato ragazzi occhio perché siamo ancora siamo ancora lì andiamo a simulare fino alla partita contro il Valencia ottavi che concludiamo cioè ce l'andiamo a giocare questa sarà l'ultima partita dell'episodio e siamo più o meno alla fine di marzo vediamo come è stato il campionato vinto 3 a 1 3 a 1 scusate vinto 2 a 0 a 1 non so che cosa mamma mia però noi ci abbiamo ancora Roma Milan sarà tosterella tosterella per questa partita di Champions League ah volevo fare gli allenamenti vabbè andiamo in casa con la formazione vediamo un attimo se sono stanchi se sono in forma allora c'è Jovic un po' stanchino ma direi che per il resto siamo a posto andiamo in campo questa formazione sempre sul pezzo e ovviamente forza Napoli Fabiano bella questa palla per Rush attenzione perché dall'altro lato arriva Insigne servito in realtà bene Insigne va con questa scivolata rivedibile poi Alejandro Grimaldo la mette in mezzo il Valencia può ripartire in realtà per un attimo poi il Napoli cosa è successo Iarzabal non si è mica sui scivoli d'acqua ma io veramente non ho parole comunque ragazzi noi l'1-1 zitto zitto quattro quattro ci va alla grande occhio occhio me la sono gufata clamorosamente me la sono gufata bravo Meret che parata clamorosa ragazzi finalmente Rush Jovic la larga tutta per Lorenzo Insigne che corre campo difficile oggi il San Paolo Insigne passa dal centro dove c'è Allan che si gira mamma mia la difesa del Valencia è perfetta ragazzi ve lo giuro non riesco a non riesco a passare oggi attenzione Jovic può andarsene a Gabriel Paulista è più veloce Jovic è costretto a rientrare però Jovic Jovic nello stretto attende l'arrivo di Insigne che la piazza Silesen stavamo per segnare di nuovo di nuovo allo scadere del primo tempo Insigne dalla bandierina dove c'è Jovic non riesce a impattare il pallone e finisce con il primo tempo partita divertente da una parte dall'altra però raga noi siamo sempre lì sul filo del rasoio se per caso dovessimo prendere gol le cose si metterebbero veramente molto male buona la palla recuperata da Insigne lancia in profondità Jovic Paulista non lo può mai tenere ma poi sul lungo Paulista riesce a riprenderlo che bella azione sì non so neanche ragazzi come abbiamo fatto il Napoli la sblocca al 49esimo non so neanche come abbiamo fatto bravissimo Jovic che come detto dopo un po' si fa riprendere da Paulista perché Paulista ha una falaccata più ampia siamo sempre costretti a rientrare qui lo facciamo benissimo mamma che bella palla ragazzi di Rasci per Jovic ci vuole inventiva e Rasci ce l'ha ripartenza Napoli Ojarzabal Jovic eccola la palla per Ojarzabal davanti a Silesen in realtà viene servito Rasci che chiude definitivamente il discorso qualificazione e adesso chiaramente si creano molti spazi nella fase difensiva del Valencia e il Napoli ne può approfittare Fabian in signe ancora Allan che può allargarla per Grimaldo che bella questa azione Grimaldo la può mettere in mezzo dove c'è Jovic che poteva fare di certo meglio ultima ripartenza del match ragazzi con il Napoli ormai sicuro del passaggio del turno Rasci di tacco per in signe chiuso dal Derwelle finisce qua signori il Napoli ai quarti di finale di Champions League battuto 2-0 il Valencia in casa alla fine direi che tutto sommato abbiamo strameritato il passaggio del turno sono curiosissimo già di sapere contro chi saremo perché il Red Bull si appareggia contro l'Atletico Madrid e mi sembra che l'annata avesse perso eccoli qua i risultati Inter che vince passa il turno per un totale di 4-0 contro il Lione la Juventus perde per un totale di 4-0 contro il Tottenham passa anche il City contro la Madrid il PSG contro l'Atalanta Barcellona sul Liverpool ai 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 e Bayern Monaco sul Chelsea il Liverpool è una big in meno oddio ragazzi onestamente io punto tutto sulla Coppa Italia se proprio devo essere sincero guardando invece il campionato 4 punti 4 punti abbiamo vediamo un po' vediamo un po' in Champions League contro chi saremo contro il Manchester City Barcellona 3-0 Madrid derby Tottenham Inter e PSG Bayern Monaco quindi signori noi ci fermiamo direi qua simuliamo fino a questa partita contro la Roma e passiamo per l'Atalanta direi che questo episodio è stato assolutamente positivo perché ci siamo avvicinati in campionato alla Juventus siamo in finale di Coppa Italia contro la Juventus e siamo ai quarti di finale di Champions League contro il Manchester City nel prossimo episodio vediamo Roma City City Milan probabilmente e poi vediamo come va qua e poi vediamo come va qua signore perché poi se vinciamo contro il City la partita contro l'Atalanta com'è finita? vinta 4 a 0 mamma mia in simulazione siamo devastanti e quindi rimaniamo comunque in questa posizione le cose non sono cambiate signori io vi saluto spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto lasciate un piatto un commento un consiglio noi ci vediamo in un prossimo video sotto la mezza della prossima ciao a tutti ragazzi